Salve a tutti ragazzi benvenuti a una nuova serie di cose Alla via destra c'è l'unico amico youtuber Crazy Joker E vabbè siamo qua vedete dice il mio personaggio c'è il zio paperino mira di E zio pippo il grande zio pippo C'è il zio pippo zio pippo C'è il zio pippo forza Come vedete qua c'è il zio pippo Ragazzi se il video è giù deve combattere Attaccale Quando li vuoi attaccare Si ragazzi ci ha messo le magie Spostati no C'è il ragazzo sta prendendo le carte a caspita Ragazzi non ho capito che cosa Perché prima nel video ha modificato tutto Ma non ho capito che cosa ha modificato C'è non gli escono gli attacchi ragazzi è una cosa stranissima Zio pippo c'era Ho visto uno zio pippo Prova a modificarle La prima Mettici sempre le carte d'attacco E cacciaciccola della magia Anzi magia tienila Cacciaciccola dell'ombra Alla Caspita è Vedi in totale se ne puoi aggiungere altri E la voglia Vedi scritto cp Sotto ready Eccola dice che non puoi superare i 3000 Quindi puoi mettercene A posto Lascia così Esci Esci Ecco come dovesse avere più d'attacco Più carte d'attacco Attacca a questo Troppo tanto Zio pippo Ho visto ora quando ne hai Divertiti Ecco Ragazzi Il boss Attivation Te l'ha ragnettata Beh me la pagate Attenzione a non morire Ecco Vai Attacca E ricaricati Possibilmente L'altra carta Con la blu Perfetto Con R2 A ganja Ricordate Zio No Oh Ho perso Zio pippo Ragazzi Eh ma che sei Ma che sei Ma che sei Ragazzi Sembra che c'è la diarrea Quando chiamano le carte Proprio le coli Che c'è la di fai Lo zio pippo Dov'è Eh ormai è già finito Zio peppa no Ma come schiacciati Attacco Salti e attacco Ecco qua Attacco Attacco Che sono assorditi Sì Ricordi che la magia blu Non puoi farla Contro quelli blu E ovviamente La magia rossa Non puoi farla Contro quelli Rossa Caricaricate le carte No lo zio pippo Chiama 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 l'ora Pippi Inseguili Inseguili Stasi vicino Le hanno annientato Ragazzi Questo è più dello zio pippo Sta avendo Ecco è ritornato Ma zio Te l'ha annientato Di nuovo L'ha annientato Di nuovo ragazzi Ma come l'hanno fatto Zio pippo Ha perso La qualità Ha perso Lo smalto Ragazzi Zio pippo Vende Ma è quella Caspita di porta Potrei dare La quinta Ti piace Activation Deve una carta Che supera Il 9 Con volo di 9 Questa carta Ti dice Che tutti i nemici Che c'è Nella stanza Che entri Sono addormentati Devi vedere le carte Che usi Ecco vedi Poi attaccarle Tranquillamente Ecco ragazzi Proprio Ma vabbè Vedi Dormono sempre Gia pippo Ecco Ora No È un paperino Gia paperino Un po' del suo Vai già ma però Beh però Ha cacciato Gli ha cacciato Ecco Sono andato di livello Attacca Zio papero Torni Usalo Mamma mia Che va Che va Una bocca Non ci sto capendo Un ca Tu attacca E basta Ecco Hai pure curato A quali Gia pippo Gia pippo Gia pippo Gia pippo No No alla fine Non te lo dà mai Che mi cagli Vedi tu Attacca qua Oppure Langi glielo contro Con X Aggangialo Attaccalo Mamma mia Mamma mia Ok Ragazzi Scusate l'attimo Ragazzi Che cacciato Ganchito Ah è messa come prima Carta Vedi Spostalo Un po' Verso Eh Forse Agilici Una carta Le stai cacciando Così Non so Ah la metti Gia pippo Gia pippo Ma te zero Non fare attacchi a vuoto PS2 Perché sprechi le carte Cerchi sempre di colpirle È ingiusto Beh Prova ad andare Dietro Dietro Ragazzi L'ha preso Non so come Ma l'ha preso Ma cambia le carte Che non ti servono No Vedi pure le carte Però ragazzi A poco a poco Si sta imparando Il nostro caro PS2 Vero Il gioco di piace Più questo gioco Ricordo C'è un altro Dormiglione Ragazzi Vedo che Chiameremo I nemici Dormienti No I belli Adormentati Ah Zio pippo No Eccolo Lo so Ragazzi Lo zio pippo Cagliere Ma Non è possibile Ragazzi È troppo forte Zio pippo Se dice ragazzi Se io entro in scena Li andiamo tutti Quindi Mi riservo per il dolce Il delirio ragazzi Che bello Dopo una carta Trova Sicurata ragazzi Modifico un attimo Il deck Ok Può dare Una carta Una carta verde Dice che una carta Dice che una carta Delle tue amici Compare a inizio battaglia Quindi può darsi Che trovi lo zio pippo All'inizio Ancora no Devi trovare le carte giuste Intanto la tua opinione Ps2 Intanto la tua opinione 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 Ps2 Qual è Io lo prendo Eh Non è riuscito a prenderlo ragazzi Zio pippo E' lo zio paperino Ma schiva no Quando arriva l'attacco Paggia paperino E ti ha pure curato Tengo zio Ragazzi Mi sa che il video Invece lo chiameremo Zio paperino Proprio perché piace A uno stagano Ps2 No A me piace Beleggio pippo Inevitare Beleggio pippo Pippo Bauno Allora Ragazzi Casino Frecchetto L'ho preso? Non credo Ecco Cambia la carta Freese Coalation Ragazzi Non so come E' riuscito a colpirli tutti Ah zio pippo Lo zio pippo Il ritorno E finalmente Ragazzi Ragazzi Vai Gio pippo Gio pippo Gio pippo Gio pippo Gio Gio È durato poco È durato poco Ragazzi Ragazzi Se arriva Per più tempo A questo Era Aveva distrutto Pure le scale Là sotto Ragazzi Ragazzi Gio pippo Che aveva Il chiamato Ci va a cominciare A sentire Oh no Eh Era Ps2 La vecchiaia Di zio pippo E' zio pippo E' poi Niente andare Eh E' giusto E' giusto Ragazzi Eh Scusate Io di qua Mi sono bloccato Prova a tornare indietro A fronte dei nemici Non lo so No 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 Ecco Wings Bottale No non è il suicidio Non preoccuparti Bravo Ragazzi È riuscito a colpirlo Attaccali Già Pippo Ma lo zio va per il Vai zio Sei con noi Come diceva Renato Pozzetto Ella Freeze Ovviamente cerca di pre Ma come Un spagnolo Attacca Aggangialo Così non lo prendi di vista Quando non li vedi aggangialo Ragazzi Ragazzi Zio Pippo Come la provvidenza Si fa vedere a volte Attaccalo Già Pippo Già Pippo Già Pippo Il devastatore Già Pippo Già Pippo Il devastatore Ragazzi Il King Kong Già Pappà Già Pippo Già Pippo È in mezzo Già Pippo Già Pippo È in mezzo Già Pippo Ragazzi Ragazzi Nello scorso episodio Ha fatto una carneficina Lo zio Pippo Ragazzi Andatevelo a rivedere Zio Pippo Ovviamente quando vedi che hanno una carta si attaccano loro schiva ecco lo zio paperino il ritorno ho detto il cecchino zio pippo ho preso pure il zio pippo ragazzi ho visto un altro zio paperino il cecchino zio paperino il cecchino ma in azione e lo prende ragazzi ragazzi l'episodio di oggi amano zio paperino eccolo ecco il devastatore universale zio pippo attivation ma è zio pippo ecco ragazzi pippo 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 ragazzi io non ho parole attaccati a zio pippo attenzione che ragazzi chiamano zio pippo attenzione forse è venuto no no io mi faccio il cecchino e lo prende da vicino ecco lo zio pippo e prende pure il zio pippo no corpo caos va attiva eh super 7 7 7 si ti dice che devi avere delle tre carte di stesso valore per attacco non si sa non si sa non si sa che cosa ci potrà essere scusate ragazzi 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 stiamo andando ben oltre i minuti promessi quindi dopo questa battaglia ragazzi il video finisce zio pippo un ultimo ingresso di zio pippo ragazzi manca è del cecchino vero atta eccolo zio pippo zio pippo eccolo a prendere zio pippo attivation ragazzi vai zio pippo vai zio pippo vai zio pippo zio pippo eh zio pippo ci lascia con questa splendida uscita di scena ragazzi ricarica le carte è la mia figura di zio pippo e l'ha preso pure ragazzi zio pippo ci lascia il zio pippo con questa uscita spettacolare ragazzi non so vuoi fare un'ultima battaglia caro ps2 purtroppo ci manca con questa carta ragazzi potete sapere torsi i commenti come trovarla no questa faccio con la dorata ragazzi non so come è riuscito ad attivare questa benedetta porta c'è il zio pippo che mi porta qualcuno ragazzi dopo questa uscita di zio pippo inaspettata zio pino zio pippo zio pippo vabbè vabbè combattere da solo non è facile come credere eh c'è vero zio pippo ebbatico cavato ecco zio pippo grazie zio pippo ti stimo zio pippo eh zio cecchino paperino che gli sta muorendo zio pippo zio cecchino ragazzi io non so proprio eh no no papà ah ti spiegano i valori vedi leggero bene da 0 a 9 più numero è alto più numero è alto è più a valore se per esempio se per esempio un nemico ti attacca a valore di 1 e tu c'hai 2 vinci tu lui c'ha 1 vedi su si 4 prova ma prova ora prova ora ah ok funziona hai visto? gira con le calze adesso c'è se è accaduto ok c'è chiaramente devo stare le carte con un po' il più alto però qua sembra lo zio pippo le carte con il numero 2 sono le speciali vedi come vado c'erano lo scorso episodio ragazzi con le 0 quando mi ricordavo pagano di più ma c'è zio pippo che ne batte tutte si ragazzi zio pippo potete dire tutto quando l'arma di distruzione di massa di ps2 ragazzi e lo zio pippo sembra il mio cuore vai anche se ha fatto la vocale chiara l'unica devi prendere tre carte ecco qua beh puoi scegliere le carte che vuoi vedi ma adesso si queste tre vedi con triangolo oppure con l1 e r1 in totale quelle tre carte formavano quella mossa che visto abbiamo sbloccato con l'abilità ma è inutile ragazzi ps2 sarà lo zio pippo io no è inutile tutti questi discorsi no parole spercate al vento pure il cecchino ragazzi c'è zio paperino il cecchino ogni tanto sbaglia a me se è emozionato però l'emozione c'è pure però davanti riprende davanti come te la buona mira di zio paperino eh zio paperino guarda va va che due mostri va zio pippo il devastatore ragazzi king kong e godzilla godzilla pippo e il king king paperino detto cecchino detto zio cecchino e paperino simba simba alleluia ragazzi il video finisce qui la tua opinione ps2 zio pippo e zio pippo l'hashtag forza zio pippo metti in pausa vi lascio con beh il cretino zio cecchino paperino e zio pippo il devastatore e e per oggi è tutto guarda 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 come sto a riso a due lenti cioè troppo ragazzi ragazzi la mia opinione è che siccome gli sta morendo a vecchiaia per la send eh prima ragazzi il video gli piace quindi glielo farò continuare il gioco grazie a zio pippo mi piace quindi ragazzi non so che dirvi da vostra mattina ringraziamo gli iscritti come al solito siamo iscritti quelli che mettono mi piace non mi piace devono spiegare il perché quelli che mi sorizzano si devono iscrivere e nient'altro cosa vuoi dire ps2 bene forse zio pippo ragazzi il video lo chiameremo la potenza di zio pippo 2 perché questa cosa il ritorno anzi il ritorno di zio pippo ragazzi il ritorno di zio pippo a me la cosa spettacolare di questo video questo gioco che all'ultimo minuto esce zio pippo temi ragazzi è il cecchino pure zio cecchino pane pane e vino zio cecchino paperino paper cecchino funziona ragazzi il video finisce qui il video finisce qui ragazzi i vostri amatissimi ps2 forever zio pino eh zio pippo lo zio pippo ps2 lo zio pippo forever ragazzi è il grande inestimabile crazy joker zio cecchino paperino è tutto ciao guaglio